Il nostro viaggio alla scoperta delle piante stagionali fa tappa questa mattina davanti ad un meraviglioso esemplare di hortensia appartenente alla famiglia delle sassifragacee. È la pianta ornamentale più utilizzata nella decorazione e nell'ornamento dei cortili delle nostre abitazioni, tanto da essere definita dagli esperti vivaisti la seconda regina del giardino, subito dopo la rosa. Vi parlerò delle idrange comunemente chiamate hortensie, che tutti conosciamo con il nome di hortensia. Queste sono fiorite perché sono state fatte fiorire un po' anticipatamente, essendo state tenute in serra al caldo. Perché altrimenti in questo momento dell'anno ancora l'ortensia non è proprio fiorita. Ha buttato le foglie, ha fatto le gemme a foglie e le gemme a fiore, però ancora il fiore aperto non ce l'ha. Quindi nel momento in cui uno acquista un'ortensia fiorita, che è molto bella da vedere, però deve avere qualche cautela nel non metterla subito all'esterno, fuori o addirittura piantarla. Perché è un po' troppo presto per queste piante. Vanno mantenute un po' riparate anche in casa, se c'è molta luce, per godersi la fioritura e comunque aspettare a metterle proprio fuori all'aperto ora in questo momento. Quali sono le caratteristiche peculiari di questa pianta e come mai è molto comune nei nostri giardini? Allora l'ortensia è una pianta facile, anche se ha bisogno di alcune accortezze, quali mantenere il terriccio sempre acido, perché l'ortensia è una delle principali piante acidofile che comunemente vengono coltivate nei giardini, che sono, oltre all'ortensia, la zalea, la camelia, la gardenia, le eriche, gli elevori, queste sono tutte piante acidofile che vengono comunemente acquistate nei vivai e che poi quindi a casa uno deve avere l'accortezza di rinvasarle utilizzando solo ed esclusivamente un terriccio acido, fare la correzione con il ferro perché altrimenti vanno incontro a una clorosi ferrica, cioè un ingiallimento delle foglie, perché l'acqua con la quale noi le innaffiamo è sempre nelle nostre zone molto calcarea, quindi innalza il pH del terreno e allora sta a noi fare una correzione in modo tale da mantenere la pianta sana. Ma a parte questa accortezza che comunque quando uno ha imparato è molto semplice da fare, l'ortensia per il resto è una pianta resistente, rustica, che nell'inverno si spoglia completamente, quindi affronta gli inverni, anche le temperature basse le affronta con molta facilità, nella primavera getta prima le foglie e poi i fiori, e quindi è una pianta per tutti. In quale luogo ci consiglia di posizionare questa bellissima pianta all'interno delle nostre abitazioni? Allora intanto l'ortensia è una pianta che deve stare fuori, queste io ho suggerito di mantenerle riparate perché sono state fatte fiorire prima, però l'ortensia è una pianta da esterno, ecco la cosa importante è che l'ortensia deve essere tenuta assolutamente all'ombra nel periodo estivo, perché è una pianta che ha molto bisogno di acqua, è una pianta che si disidrata con molta facilità e quindi non ama il sole diretto, addirittura soffre molto al sole diretto, addirittura ci sono piante che si possono seccare se viene un'estate con un sole molto caldo e un'estate come quella che è venuta l'anno scorso in cui un'ortensia soffre se è piantata al sole. Si vede proprio dalla pianta stessa perché le foglie dalla mattina alla sera proprio si appassiscono in una sola giornata, quindi uno si rende proprio conto che l'ortensia al sole non ci deve stare. Consigli riguardo l'annaffiatura? Allora, nell'estate va annaffiata tutti i giorni, se la posizione non è proprio perfettamente all'ombra, perché se uno non ha un giardino in cui c'è l'ombra vera, la può piantare a una mezz'ombra, anche se la cosa ideale sarebbe piantarla sotto a una pianta che poi perderà le foglie, quindi nell'estate avrà quest'ombra luminosa perché il sole filtrerà un po' tra la chioma della pianta e poi nell'inverno ci può essere anche il sole, tanto non importa. Ecco, nel caso in cui si pianta nella posizione giusta, si innaffia in ogni caso nell'estate tutti i giorni, perché è una pianta che ha bisogno di acqua, infatti si chiama idrangea, proprio perché è una pianta che necessita abbastanza di essere innaffiata nell'estate. E per quanto riguarda la potatura? Allora, l'ortensia si pota, per chi non è molto esperto nella potatura, è consigliabile potarla nell'autunno, non nella primavera, perché in primavera l'ortensia fiorirà nelle gemme a fiore che metterà in quell'anno, quindi noi si rischia, se la nostra potatura è un po' arrangiata, si rischia di recidere anche le gemme che portano i fiori dell'anno in corso, quindi potandola nell'autunno noi non abbiamo nessun rischio, perché poi in primavera, quando metterà fuori le nuove gemme, la pianta stessa selezionerà le gemme a fiore dalle gemme a foglie, quindi avremo sempre una fioritura abbondante. L'idrangea, questo è il nome botanico, è un arbusto perenne che si adatta con grande facilità a quasi tutti i tipi di terreno, purché abbiano un regolare apporto d'acqua e un buon drenaggio. Questa pianta fiorisce nel mese di aprile e la sua fioritura in casa può durare dalle 6 alle 8 settimane, a fatto che venga collocata in un luogo luminoso e fresco. E allora ascoltiamo i preziosi consigli dell'esperto affinché l'ortensia resti bella e viva a lungo! Allora, siamo davanti a una pianta di ortenzia, come si presenta in questo momento dell'anno nei nostri giardini, quindi a differenza di questa che, come dicevo prima, è fiorita anticipatamente, questa è l'ortensia ora. Quindi è un'ortensia che ancora ha messo solo le foglie ma che non ha nessun fiore. Ha le gemme a foglie e le gemme a fiore, che sono queste, e quindi fiorirà però ancora ci vuole qualche settimana prima che fiorisca. Allora, le ortenzie, come dicevo prima, sono piante che hanno bisogno di una correzione nel terriccio utilizzando degli appositi concimi per piante acidofile che mantengono il pH del terreno sempre acido. Si può utilizzare solfato ferroso per combattere l'ingiallimento delle foglie, che è una situazione molto comune nell'ortensia, ma che non è una situazione che deve preoccupare in quanto è solo una mancanza di ferro che con delle semplici bustine in vendita nei vivai diluite nell'acqua si corregge facilmente nel giro di qualche giorno. Quindi la foglia ritorna subito verde perché quando il pH si alza troppo l'ortensia soffre e quindi bisogna utilizzare un concime specifico per acidofile e la correzione con solfato ferroso.